Non ha un altro modo Gesù per confermare i Suoi discepoli nella fede che mostrare loro un anticipo della Sua gloria. Le folle si sono diradate perché il Messia non è come se lo aspettavano e anche gli apostoli non hanno capito perché il Maestro abbia annunciato loro di dover morire. Per questo, ha spiegato Papa Francesco all'Angelus della seconda domenica di Quaresima, Gesù decide di salire sul monte con Pietro, Giacomo e Giovanni e di trasfigurarsi davanti a loro. In questo modo, osserva Francesco, Gesù si rivela come l'icona perfetta del Padre, l'irradiazione della Sua gloria e la presenza al suo fianco di Mosè ed Elia a rappresentare la legge e i profeti dimostra in modo plastico a detto che tutto comincia e finisce in Gesù. E la voce di Dio che sul monte risuona e invita i discepoli ad ascoltare Gesù è, afferma il Papa, un invito rivolto anche ai cristiani di oggi. Ascoltare Cristo, infatti, comporta assumere la logica del suo mistero pasquale, mettersi in cammino con Lui per fare della propria esistenza un dono di amore agli altri, in docile obbedienza alla volontà di Dio, con un atteggiamento di distacco dalle cose mondane e di interiore libertà. Occorre, in altre parole, essere pronti a perdere la propria vita, donandola affinché tutti gli uomini siano salvati e che ci incontreremo nella felicità eterna. Il cammino di Gesù sempre ci porta alla felicità. Non dimenticatelo! Il cammino di Gesù sempre ci porta alla felicità.